Benvenuti, cari follower. Prima di entrare nei dettagli, non dimenticare di supportarci premendo il pulsante Mi piace per questo video per motivarci a continuare e offrirti il meglio. Se gli aggiornamenti sono ancora fissati sul modello americano, che indica un'alta probabilità che l'Italia sia esposta ad un forte uragano a partire da martedì 26 marzo 2024. Questo uragano sarà carico di grandi quantità di pioggia in quasi tutte le regioni d'Italia da nord a sud, con forti piogge a Fallugia al nord e in zone separate al centro. L'Italia quindi, a partire da martedì, piogge molto forti, accompagnate dalla caduta di cereali malati e rischio di allagamenti in Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Limbadria, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna. Forti nevicate cadranno su Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia e altopiani delle Marche Meridionali, Umbria, Abruzzo. Questo uragano continuerà a colpire l'Italia almeno fino al 29 marzo, con abbondanti piogge e nevicate. Come ho detto, quindi non lasciatevi ingannare dall'atmosfera calda e stabile e preparatevi al ritorno del vero inverno in Italia. Tra qualche giorno, cercheremo di fornirvi maggiori dettagli riguardo questo potente uragano. Vi informeremo più tardi quando il periodo si avvicinerà.